Kepler 3042 è il primo gioco che presentiamo su Kickstarter perché siamo davvero convinti della sua validità. Nonostante l'ambientazione spaziale, si tratta di un tipico gioco gestionale in pieno stile Placentia Games. A livello di meccanica è un gioco di gestione risorse dove occorre effettuare delle azioni, esplorare i pianeti, produrre risorse, spenderle per migliorare il proprio livello tecnologico e rendere le azioni più potenti. Queste dinamiche sono però inserite in un quadro nuovo in cui ogni giocatore ha un numero limitato di risorse materia, energia e antimateria e può sacrificarle bruciandole per svolgere azioni aggiuntive. Questo è il primo punto di forza del gioco e ne rappresenta un aspetto fondamentale e innovativo. Ma analizziamo il funzionamento del gioco. La prima cosa che il giocatore deve fare è scegliere l'azione. Per fare ciò deve muovere il proprio cubo in modo da selezionarne una diversa da quella del turno precedente. Le azioni permettono di produrre risorse, spenderle per migliorare il proprio livello tecnologico, mettere in gioco nuove astronavi, muoverle e scoprire, colonizzare o terraformare pianeti. Dopodiché il giocatore può decidere di bruciare una o due risorse per attivare le azioni bonus corrispondenti alla posizione del cubo. Le risorse che si trovano in quest'area, il pozzo di Clausius, non sono utilizzabili in alcun modo. Ci sono alcune possibilità di recuperarle, ma sono poche. Di fatto possiamo considerare che bruciare una risorsa significhi non poterla più usare per il resto della partita. Ci tengo però a sottolineare che l'unico modo per bruciare risorse è farlo di propria volontà. Non ci sono né eventi né azioni degli avversari che danneggino i giocatori. Mai. È sempre una scelta vostra e ogni volta è una scelta attorno a cui ruota tutta la vostra strategia. Dopo aver svolto le eventuali azioni bonus, il giocatore può muovere tutte le proprie astronavi. Viaggiare serve ovviamente per colonizzare nuovi pianeti, terraformarli e far espandere l'umanità nella galassia. La velocità dell'astronavi dipende dal livello tecnologico raggiunto. In genere, quasi ogni azione si riferisce a una specifica tecnologia. Questo mix di azioni principali e azioni bonus dà vita a una vastissima scelta di strategie diverse. Abbiamo testato il gioco per molti mesi, in decine e decine di partite con giocatori diversi, e ci sentiamo di affermare che non esistono piani che funzionano sempre e che le strade per la vittoria sono davvero tante. La varietà e la rigiocabilità sono inoltre date dalla disposizione casuale dei 34 esagoni oggetto celeste sulla mappa e dagli obiettivi segreti che i giocatori pescano in inizio partita. Questo è il secondo punto di forza del gioco, che vi permetterà di giocarlo e rigiocarlo in continuazione. Il terzo punto di forza è l'accuratezza scientifica, o meglio fantascientifica, di Kepler 3042. Placenza Games ha infatti ingaggiato alcuni consulenti scientifici per far sì che ogni aspetto tecnologico sia verosimile. Se fra mille anni l'umanità sarà in grado di viaggiare fra le stelle o colonizzare pianeti, è probabile che lo farà seguendo i principi contenuti in questo gioco. Da questo punto di vista, Kepler 3042 vuole anche essere un inno all'esplorazione spaziale, alla tecnologia e alla scienza, che sono argomenti che ci affascinano da sempre. Per questo, nel regolamento è presente una sezione scientifica che spiega nel dettaglio questi aspetti. Insomma, sia che non ci conosciate, sia che abbiate già apprezzato i nostri giochi precedenti, vi chiediamo di supportarci. È un progetto che riteniamo davvero valido e siamo sicuri che non vi deruderà. Grazie.